Dovete fanno la reggine, stavano? Scusate quando sono arrivate tutte? No, no, sono alle 9. Alle 9, dopo che? Ah, non è adesso quando arrivano No, 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 no! Poi questa sera viene eletta la reggine, la più bella di tutte e avrà una bellissima corona Guarda, guarda! Questa è la regginezza dell'anno scorso no Grazie a tutti.